Mi chiamo Mamolini Andrea, faccio l'agricoltore biologico praticamente da quando sono nato perché nostra madre lo faceva da ancora prima che venisse fuori la certificazione bio. Sono qui perché mi piace il mercato, questo mercato in particolar modo, perché credo in un'agricoltura di prossimità, più vicina alla clientela. Credo che ci voglia un rapporto diverso tra la città e la natura. La produzione di massa industriale sta cancellando, oltre l'ambiente, anche la qualità del cibo che mangiamo. Se non diamo il giusto prezzo a ciò che mangiamo, la qualità carseggerà sempre di più. Quindi bisognerebbe dare più valore a ciò che si mangia perché i prodotti biologici aiutano il pianeta e la salute dei consumatori. Quando fai una scelta, fa la giusta. Ciao!